Vi voglio parlare di come poter modificare un pdf per poterlo rendere editabile, quindi condividerlo in classe ai vostri alunni, soprattutto in questo periodo in cui è chiaro che è sconsigliabile far stampare delle copie agli alunni e condividere dei pdf fini che abbiano come fine la stampa. E allora sfruttiamo questa web app in cui ci possiamo sia registrare che usarla così liberamente, ma io consiglio la registrazione perché così si ritrovano poi i lavori su cui si è lavorato, si è modificato, ad esempio i pdf modificati vengono tutti salvati. E allora ci si collega a pdf escape.com, dopodiché si può assolutamente, guardate un po', si apre questa schermata qua, si fa il login, io vado perché già mi sono registrata con l'account google e si inizia a lavorare cliccando questo, open più, e si fa l'upload per se io pdf ce l'ho nel mio compito, quindi si sfoglia e io ce li ho nel download, quindi download, ultimo, ecco, questo è bucato, apro e adesso ecco che viene inserito nella pagina editing. È chiaro che tolgo tutto quello che non mi interessa, quindi ad esempio con whiteout praticamente cosa faccio? Seleziono quello che devo cancellare, ecco, così, e lo cancello, perfetto, lo cancello, no, questo no, non lo cancello, perfetto, poi lo riseleziono per toglierlo. Allora, questo è il mio pdf, è un testo bucato, io devo inserire queste parole all'interno di questi puntini. Come faccio? Quindi abbiamo usato il whiteout per cancellare le parti che non ci interessano, insomma che non vogliamo che vengano riportate nel pdf. Ora, per rendere queste parti editabili, cioè che gli alunni possono scrivere, devo cliccare form failed, questo qua. C'è il testo, il testo, una checkbox, cioè devo, voglio che sia un paragrafo, che sia una checkbox o che sia una listbox, ma io voglio un testo, quindi va bene così, seleziono e poi guardate un po', devo creare la casella in cui poi qui dentro l'alunno scriverà il la parolina che poi andrà a scegliere, quindi non vedrà semplicemente un pdf, la faccio pure qua, in tutti gli spazietti, ma avrà la possibilità di scrivere all'interno, di scrivere all'interno, questo lo mettiamo così, lo chiudiamo un po', lo abbassiamo, di scrivere all'interno la parola, perché abbiamo detto questo è un testo bucato, poi come vedete me la dà in automatico, mi dà in automatico il rettangolino perché ha capito che lo sto ripetendo più volte, basta cliccare il tasto sinistro del mouse, lo ridimensiono, basta cliccare di nuovo il tasto sinistro del mouse in una posizione ben data e lui lo ripropone. Ok, perfetto, questo è adesso il testo con lo spazio in cui gli alunni, una volta che io condivido loro questo pdf, ricordiamo un pdf che sto editando, cioè per renderlo scrivibile in questi spazi specifici, l'alunno lo potrà compilare. Non solo lo può compilare, ma posso scegliere anche il carattere in cui può scrivere, il carattere vedete con questa tendina qui ci sono una serie di caratteri, anche la dimensione del carattere, se è grassetto o corsivo, perfetto, direi che ho abbastanza chance. Posso anche definire il colore col quale il mio alunno deve andare a scrivere questo, a riempire questo pdf in queste caselle che ho creato, ad esempio il rosso, perfetto, per fare in modo che queste caselle in cui debbano scrivere i ragazzi siano tutte uguali, che faccio? Cancello intanto queste qui col cestino, ecco le seleziono, le cancello col cestino e adesso copio la prima che mi sembra perfetta, guardate intanto io sto selezionando, ecco perché non l'avevo fatto in tutte, questa casella voglio che scrivano di rosso. Ok, adesso vado dentro la casella, premo il tasto destro del mouse, duplico, ecco, e la metto qua, perfetto, lo stesso qui, duplico e la metto qui, così velocemente riempio, di, ah, questa è una cosa vecchia, la togliamo, cancella, allora questa la duplico, duplico e la metto qua, la sposto, come vedete si può spostare benissimo, vedete che già il cursore è rosso, perfetto, duplico e la metto qua, ecco, la duplica e la metto qua, questa la la duplico, sempre il tasto destro del mouse e la metto qua, e poi quest'altra la duplico e la metto qua. Ok, se io oltre, ad esempio qua nell'ultimo, no, allora questo lo cancello, premo il cestino, qui, anziché mettere una casella di testo normale, clicco di nuovo form in field, no, test, non test, ma la tendina qui accanto, ma voglio una list box, seleziono, che faccio? Vado qui alla list box, allora, intanto la restringo, perfetto, no, non voglio questo detto, lo cancello un attimo, voglio non un testo, ma una list box, seleziono, e adesso, andando sempre col tasto destro dentro questa casella, vado a proprietà dell'oggetto e qua nelle opzioni scrivo la lista delle parole tra cui scegliere quelle date, e allora metto io, poi a capo anello, a capo paglia, ok, e do l'ok. Prima di dare l'ok posso anche, allora vado di nuovo col tasto destro, ecco qua, voglio dare il nome al mio esercizio, metto esercizio 2, ok, e ora do l'ok. Perfetto, allora, vediamo un po', vado salvo, salvo, e l'ho salvato col dischetto, adesso l'ho scaricato, poi faccio il download al computer, ok, perfetto, adesso voglio far vedere come lo visualizza un alunno una volta che è stato appunto salvato, gli è stato condiviso, ecco qua, lui vede, questo vedete che è tipo un rettangolino un po' grigio, celeste, no? Quando vedo col cursor diventa bianco, mi dà la possibilità di scriverci su, ecco qua, perfetto. E qua cosa vedo? Qua vedo che la scelta, vedete scorro e ho le scelte, i tre nomi che avevo dato, quindi qua posso scrivere, perfetto, qui posso scrivere, ok, posso scrivere anche qua, ok, e posso scrivere anche qua, vedete che mi dà la possibilità di scrivere in rosso perché avrei evidenziato il rosso e il colore, perfetto, ok, benissimo, adesso vediamo come caricare questo pdf nella nostra classe virtuale, ho aperto wiskool, sono andato in alla board, aggiungo il contenuto, aggiungo quindi pdf, clicco, carica file, ce l'ho sul mio desktop, perfetto, testo bucato, apri e clicco aggiungi, vediamo come lo vedono gli alunni, clicco due volte, clicco due volte, allora io me lo trovo così, posso vediamo cliccarci su, però vedo che non mi fa scrivere, forse perché l'ho inserito come pdf, vediamo se lo scarichiamo, se mi fa scrivere, allora lo salvo e adesso lo apro direttamente da qui, vediamo se mi fa scrivere dentro, sì, adesso mi fa scrivere, con il mio, perfetto, tra i fogli, tra i fogli, quindi la cosa importante è che una volta che io carico il contenuto nella board di wiskool, in qualsiasi formato lo possa caricare, è sì un pdf editabile, però lo devo scaricare per poterlo editare, quindi lo scarico con alunno, lo scarico sul dispositivo su cui lavoro, lo edito e poi lo ricarico per consegnarlo all'insegnante, chiaro? È tutto! Grazie! 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 Grazie!